ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare defluor laboratorio chimico da gas rl ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti apporto nutrienti a cosa serve defluor è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali è commercializzato in italia dall'azienda laboratorio chimico da gas rl informazioni commerciali titolare laboratorio chimico da gas rl concessionario laboratorio chimico da gas rl categoria di appartenenza integratori di minerali forma farmaceutica gocce confezioni defluor integratore voce 10 ml indicazioni integratore alimentare a base di fluoro il fluoro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti modalità d'uso bambini da sei mesi ai tre anni 1 goccia al giorno bambini da 3 a 6 anni 2 gocce al giorno descrizione e caratteristiche defluor voce un integratore alimentare a base di fluoro confezione da 10 ml contenuto totale di fluoro nel flacone 50 mg avvertenze gli integratori alimentari non sono intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata di un sano stile di vita a tenersi con scrupolo alle dosi consigliate tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età per soggetti in età pediatrica è necessario sentire il parere del medico un consumo eccessivo può avere effetti lassativi conservare in luogo fresco lontano da fonti di calore ingredienti acqua depurata stabilizzante che si litolo sodio monofluorofosfato glicerina correttore di acidità acido lattico conservante potassio assorbato aroma fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato